Sulla questione dei fondi, sì, capisco che faccia molta presa mediaticamente confondere i fondi di Monte dei Paschi, che è uno scandalo, con quelli ancora non spesi per sistemare il terremoto che, ricordo, la prima grande scossa c'è stata a fine agosto. Il problema però non è, come giustamente diceva già Calone, una questione di risorse che ci sono, ma è della burocrazia che tiene bloccato qualsiasi tipo di intervento per la ricostruzione. Questo è il vero nocciolo su cui la politica si deve non solo interrogare, ma dare delle risposte molto velocemente. Io sono stato da Amatrice sotto Natale poco prima del Capodanno e ho parlato a lungo col sindaco di Amatrice, ho incontrato anche altre persone che purtroppo fortunatamente non vivono più nelle tende, ma vivono comunque in situazioni di disagio. E ho visto anche una cosa che potrebbe essere uno spunto, perché la politica deve dare delle risposte oltre che fare delle polemiche dopo che si è interrogata. E ho visto che nel momento in cui si dà la gestione, non solo emergenziale, ma di ricostruzione, di rimozione delle macerie e tutto il resto, all'esercito le cose funzionano. Quindi magari un intervento, un coordinamento molto più forte nella fase iniziale, che è una fase iniziale molto lunga perché è di diversi mesi, affidato all'esercito salta tutta una serie di procedure che altrimenti rallentano troppo e rischiano appunto di finire in queste situazioni drammatiche. Io ritengo che sia urgente e necessario, ma questo ritengo che lo pensi anche meglio, che il governo faccia un decreto per sburocratizzare prima di tutto la rimozione delle macerie nelle zone più colpite e anche con la massima trasparenza, senza rischiare di avere infiltrazioni, creare dei canali preferenziali per la ricostruzione. Altrimenti avremo sempre queste persone, ripeto, sotto schiaffo, non solo nel vivere in situazioni di disagio, ma anche a rischio quando poi arrivano situazioni di maltempo eccezionali come quelle che stiamo vivendo. Grazie.